Questa linea è scarsa fatica Non gli piace la neve a quanto pare Sì La maledetta Così completamente a caso proprio Non ho dato nessun segno di Vuoi studiare? E allora buona fortuna Buono studio E divertiti tantissimo Mi raccomando Mi raccomando studia tutto però Questo è clean Ma porca miseria T9, T7, T7, va affanchi C'è vino Vino E non c'è più un cazzo di nessuno E dai Poco prima che morisse la linea Era una bella istanza C'erano due python No Adesso Ho intravisto un'anaconda Ho intravisto un'anaconda Dov'era 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 Che si sta avvicinando con fare minaccioso Infatti è wanted Preparare le armi Non ho ancora ben capito Perché questi qua Vengono a cagare il cazzo a me Non dimenticato Hai ucciso il mondo Beh, se hai ucciso tutto E ti sei anche dimenticato Di cambiare abilità Sti cazzi Che cazzo di abilità Devi prima O lo usavi già prima Dai python Dai python Dai python Bacino L'ho girato Aspettati, rigiro dritto Così No Non si è girato stavolta Che cattivo Vabbè, problemi suoi Questa anaconda Vale Poco Vediamo se aumenta parecchio E che palle Sì ma python Ti fai pestare così Come un cretino Dai Ti salvo io python Insomma perché Se non si aspetta a te Facciamo notte Ce li ho anch'io i chaff Sai anaconda Non volevo dirtelo ma Ce li ho anch'io Tu invece non hai più motori Rules No 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 126.000 Posso anche attraverso il tuo cadavere Così Sneak Ha fatto una fiammata davanti Che My eyes Allora Ma James Adonne Non è quello che ha fatto Le colonne sonore di Halo Quell'asteroide L'ho visto Pericolosamente vicino Adesso mi viene il dubbio No mi sa che non c'entra un cazzo Mi sa che non c'entra un cazzo Grazie col Friendship Drive Online Era Martin O'Donnell Non James Ho sbagliato Più o meno No 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 Possibilmente Evite le steroide Winda 2 Ora che sono a casa Posso scappare Sul Discord L'oraire puoi scappare Non sono su Discord Al momento Mi dispiace Mi dispiace Ti aspetti un minuto Sono crudele come un asteroide Mi dispiace Sono crudele come un asteroide Mi dispiace Tutto Mi dispiace un po' l'ansia Au 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 Mi sono fatto più male con l'asteroide Che con Doviamo proprio stare a due centimetri Da quel cazzo di asteroide Facciamo andare un po' più lontani Per favore Che Mi ha fatto più male quello Che Ahia Allora C'è qualcosa di grosso Figurati T7 Python T9 Uno che fa più più qua Tipo gli scherzoni Di suonare il campanello E scappare C'è un asteroide in mezzo Anche qua Porca miseria Due asteroidi Vieni bene vicino Vieni bene vicino Tanto con cosa sei? Sei Dwinder Wow Occhio Ci si rischia la pellaccia Bravo che ti sei girato totalmente Mai dare le spalle A chi addomestica gli asteroidi Sai mai cosa potrebbe succedere Pacino anche a te Ok quello sta per esplodere Allora Allora Vabbè Vabbè L'abilità che ti aumenta l'armatura In base alla parata Da 14% Da 14% Di parata Non mi cambia Mi sono perso un pezzo Mi sono perso un pezzo Cioè senza quell'abilità La passiva lì Hai X tempra Se metti quella armatura Se metti quella armatura lì Hai la stessa Tempra Non ti era già successo anche per qualcos'altro Non mi ricordo più per cosa Che non ti riaggiornava i valori E ti teneva quelli vecchi Cos'è combinato sul diavolo Che li stai sul cazzo così? Oh questo è clean Però c'è una con Ci si accontenta E mi viene già anche addosso Guarda l'oligolosone Bobule Bobule Vieni Bobule Come at me Bobule Quanto vale Scannata Beh Già qualcosa che merita Beh Non mi scanni Vieni solo Ah mi stava scannando Semplicemente non ha detto niente Brava Mettiti così Sì Sì ma non sparare va Devi proprio sparare Molto più necessario Aspetta eh Ho visto Aspetta solo un attimino Possiva Santa Causa È forza divina Ma se qua Allora Possiva Santa Causa È quello che aumenta i danni Del 10% E ti cura Tutte le volte che fai Danni sacri Giusto? In teoria Sì dovrebbe pomparti Dovrebbe pomparti abbastanza la tempra Rimango col dovrebbe perché a quanto pare non lo sta facendo Anche perché Santa Causa non dà niente sulla tempra Quindi Non so perché non te Non ti dia segni di vita O segni di tempra Ma basta sti chaff Dai appena finiscono ti Apro la power plant Letteralmente Oh guarda che è molto più fermo Bacino Uscito da partita È rientrato Non da Ma che strano È veramente strano Ma conta solo una cosa Che non è immediato Quando cambi la passiva Non è immediato Che Faccia effetto Infatti se noti poi Se la metti E rimani nella schermata delle abilità Direzionate Vedi che ha comunque Anche un po' di cooldown Però ormai Uscito di entrato Dovrebbe essere più che a posto Fa strano Fa proprio strano Però i danni te li diminuisce anche O Perché quello non mi ricordo Se te lo metti anche sulla scheda Al momento non mi ricordo Barata aumentata 44% L'armatura E di quanto dovrebbe aumentartela L'armatura Cioè quindi i danni te li ha Te li ha aggiornati Non la tempra Va che cagata Fa strano eh Un 30% Ottima domanda Pensavo che magari Poteva solo darti La riduzione dei danni Aggiuntiva Che non va a finire direttamente Sull'armatura Ma la tempra Dovrebbe comunque salire Non saprei cosa dirti Sinceramente Ho messo la power plant qua Menomale che tanto il botto è stupido E mi da tutto il tempo per Non si urla Si non neanche si esce così però No 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 Stavo aggiornando E non sentivo niente Non ho capito Sarà mio Sera Sì perché adesso Adesso non è così Allora Cosa è successo Dannazzi No Ecco Questa divina L'armatura Aumenta di un valore A fare la qualità Dilocata dello scudo Quanto paro al tuo scudo Giusto per capire Tanto come va Scrappy Tutto a po- Oh Aspetta che Mi ha scattato tutto un attimo Ho sentito Mi puoi ripetere la frase Scusami Ero fuori In macchina con i miei Aspetta 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 dello scudo Sì ma Elite dovrebbe comunque aumentartela L'armatura Non rimanere uguale Chi è che ha problemi di Elite No Elite causa problemi su diavolo Che non li aggiorna le statistiche Per motivi oscuri Comunque Comunque visto che sei 10 rv e sei ad attaccare Sidewinder da mezz'ora Io ti consiglio di andare a Piccum Che c'è C'è un piano con delacro Ma le istanze sono abbastanza casuali Sai Scam detecuto Sì è verissimo Però l'ultima volta che sono andato E poi no soprattutto Perché a Piccum sono apparsi Le combat zone Perché ci sarà un Ci saranno due fazioni Che si stanno Bastonando a vicenda Che figa Perché se vai a vedere nelle stazioni Ci sono almeno 4-5 fazioni Per ogni sistema A contendersi il controllo del sistema E quando ci compaiono le combat zone Vuol dire che due se le stanno dando E quella che perde poi Verrà eliminata Rimane solo il più forte Sì una specie Anzi non una specie È proprio così Comunque mi dispiace Ma non posso fermarmi a giocare Perché un mio amico Ha bisogno di aiuto Per un progetto Progetta progetta No no io non ho voglia Di solito mentre io gioco Lui mi dice Problemi Facile così Sai com'è che HP È un brutto lingua Ti tocca Tocca più più a lui Io sto lisciallo ad ascoltarlo Ah quindi sei anche molto utile Quindi proprio Sì Beh no Vabbè serve lui Vertiti ad ammazzare imperial creeper al massimo lo sentiamo stasera Va bene Allora stasera buon progetto E a te buon game Grazie Ciao Aumenta l'apparata generale Non dello scu... Ah ma quindi quella che aumentava l'armatura della... Ah ok Sì mi ero perso qualche pezzo Allora scusa Elita Sì 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 Pensavo che... Pensavo puttanate Mettila così C'eravamo spiegati male tutti e due E in quel caso sì Quello è la mente dello scudo Non della parata generale Succede Nessun problema Questa c'ha gli scudi divini Che cazzo c'ha Non ha più gli scudi divini Ma c'ha nonostante è grossa lo stesso Guarda Dura più di un'anaconda E poi va a fare puttanate così 106.000 Meglio il campo di caos per 4 secondi O bruciare il terreno Brucialvo Parli del laser Che mi sfugge il nome dell'abilità Ok tra i due Direi campo di caos Che dovrebbe stunnarli Però quello se ben ricordo Era una cintura che lo faceva Bua cecava Non mi ricordo Se mi sai dare fuoco qualche dettaglio in più Calcafuoco e corda dello scudo Ah ok Allora mi ricordavo bene Il calcafuoco dipende Perché Non è che facciano chissà cosa A meno che tu Sia sempre in movimento Perché se stai fermo L'area Rimane attorno a te Ma è veramente ridicola Il campo di caos invece È un po' utile Però non arriva così veloce Cioè Non succede così spesso Poter essere determinante Diciamo Tra i due io comunque direi La corda Comunque almeno Te li stordisce un po' Te li tiene un po' fermi Che è sempre un buon effetto Tenerli fermi o Stunnati O cazzi e mazzi E quello se ben ricordo Dovrebbe accecarli Dico bene Dovresti avere Dovrebbero esserci dei bracciali Non mi ricordo se però Era per il crociato O altro Che Fai danni aggiuntivi Ai nemici accecati Prova a guardare Perché Potrebbe meritare Perché nessuno mi ricordo Se era il monaco O il crociato Ma dai Adesso deve riprendersi Gli scudi Sto Maledetto Uccidiamo i laser Laser con i laser Laser Vieni qua Laser chiama laser Dispiace E rallenta i nemici Non li acceca Oh Perché sarebbe stato Un'ottima combo Però io allora ti suggerirei Comunque la corda Per Per rallentarli Non li fermerà Ma Se stanno Un po' più lontani Da te O meglio Adesso tu Fai il set di Orlando Quindi Io li attacco Spazzata O cos'era l'altro Scudo Mi sfugge il nome Quello che carica con lo scudo Poi ovviamente Nessuno ti vieta Di provare Tutte e due Vedere quello Che ti piace di più Il bello è anche quello Visto che tanto Ormai Di già tutti e due Nel cubo Costa veramente niente Uscire Mettere Cambiare E riprovare Non sparare Cagate A dopo Palla tutta Bravo Asp Che stai qui Fermo Tranquillo E che esplode Soprattutto 2% Già fatto Wow Oggi si va Oh cazzo Non dirmi che insieme Alle gunship Mi sa che insieme Alle gunship Tu girati per favore Che ti devo Uccidere Il più velocemente Possibile Mi chiamano male Che ti ho detto Il più velocemente Possibile Meno male Mi stanno aprendo Oh ma che palle Quanti cazzo Di chaff c'hai Mori veloce Mori veloce Splodi 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 Per favore Dai Veloce Eccolo lì Canale Gunship Powerplant E adesso Cacca male Che fanno Ste gunship Porca miseria Non è adesso Target destroyed Flight assist Flight assist Flight assist Off Off Sì Uuuh la cazzo La powerplant Flight assist Off 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 Di se non c'è anche Morti di scudi No Ah erano proprio Ridicolmente Bassi Ah Wow Questo è clean Questa sicuramente Wanted Powerplant Qui c'è già anche Un bel python Vieni qui Dropship Vieni qua Vieni del tuo fratellone Con i laser Che ti uccide Vai E Ming Shield offline Ok Avanti tutta Con calma Canopy 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 50% Canopy venticicque c'è già una conda? gilgameshk credevo si scrivesse senza la c credevo la planta l'ho già targettata glielo già dietro e via sotto attacco nooo non usare gli scuri le celle dai eh non è una novità e vai canopi saltata sti cazzi almeno sta ferma che c'è petalose? ah se erano petalose allora ci facciamo ancora una conda sono ridotto male la conda se ne va il python? python come è messo? che clean ma porca miseria la dropship? la dropship? ci sta ancora la dropship dai non si vede un cazzo non si vede un cazzo è il caricatore che fa gli scherzi è il caricatore che fa gli scherzi non lo scannare non lo scannare non lo scannare e dai mori veloce e poi tanto vado a ricaricare e a riparare più che altro ok dentro le armi puntiamo chernandok mi sto allontanando dagli asteroidi si ok sono devastato una volta oh che palle che non si vede quanto così maledetto ad che si sfascia se ti rompono la canopy 30 25 20 15 10 ok si ho capito che cabin pressure alert dai 47 13 minghia sono distrutto ho preso tante botte sto giro quanti spicci quanti spicci 2 milioni e mezzo mal contato nel caso non l'avete capito canopy pressure alert the cabin pressure alert cabin pressure alert ha suu 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 Abbondantemente per tempo, anche. No, questo è Sparta! Ok, che botta! 168.000 di repair! Sti cazzo! Porco cane! 2.600.000. 2.500.000 di guadagno. Mal contato. Direi che non è male. Questo vuole uccidere. No, non uccido i civili, mi dispiace. Tantomeno a Piccum che poi mi smerdo anche tutto l'altro resto. No, no, no. Col cazzo. E non c'è un tubo da fare come missioni. Repair. Tutto riparato. Altro giro, altra corsa. Forse era il contrario, ma pazienza. Per me così. Calma. Su. Su. Troppo. Giù. Giù. Ok. Per me così. Ok. 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 2% fatto, vediamo se riusciamo a fare il 3% di oggi voglio arrivare lì un po' veloce di faccia prima 26 km sono troppi ecco detto che sono troppi però almeno fa amici arrivare ora 14 km c'è già un clipper là però e lo ho quanto vali? la scoreccia non va aiucà come soluzione i più più cos'è? girarsi fare manuovre da ubriaco cercare di fare qualche timido più più per cui riuscire a mancare i bersagli perché stai facendo le manovre da ubriaco tu sei un genio scan detecuto non è così che si sta fermi non è così che si sta fermi così va già meglio così fermo devi stare o anche così come se adesso quanto è arrivato? non è salito un cazzo scannandolo e vai c'è tanta gente che se le dà python tre python tre python un clipper minchia qua c'è la fiera delle persone cattive e dei pirla che stanno fermi soprattutto tutta probabilmente l'Octoberfest che sono tutte manovre da beh no questo qua se non l'altro ci prova con i risultati d'Octoberfest sì ok sì sì dai dai grazie 246.000 ah ubriaco è anche pieno di soldi questo qua mi sa che gli fanno una buona compagnia dispiace il rischio di lei già persi addio python anche a te per favore grazie poi clip e tutti i deadly qua fantastico mi gusta sto posto si fa le manovre evasive si ottime ce la stai facendo mi dicono che stanno facendo effetto le manovre evasive si 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 non riusciamo neanche a vederti non ha upps Dai, per un 10% Dai 2, 1, 0 Poi Vediamo il dropship Un altro deadly Ci possiamo andare al dropship Ah, un sidewinder Ok La uber distribuzione delle navi Python dropship sidewinder That escalated quickly Ah, adesso c'è solo un sidewinder Target destroyed Clippa, 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 clippa Sto driftando come una bestia Ma è ciaffo, dai Non le usi, non le usi Riuscite a usarle tutte Ma guardalo lì che stronzo E stai qua fermo, vicino Fanculo clippa, dai Target shield offro Che odio Non male si è facile da prendere Oh, alleluia Prendete esempio da questo Asp Che non tira i chaff Per ora Per ora Un altro Asp Molto più tranquillo Non c'è niente Sempre 64 Bonk Tanta gente che si spara qua Contact on contact Per favore Quanto ho già fatto Un milioncino Probabilmente mal contato Clippa Anche che non va in un tubo Però Python invece E il Python invece Merita c'è di più Quindi Mio 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 Io qua non andare da loro Io qua Ui Iiisa Iiisa Beh Spara finché puoi Python Non sparerai più Molto più Neanche molti cannon Non ha senso Poi Clipper Che però è mezzo distrutto Quindi magari Uno sparo se lo prende Anche perché c'è fermo Più di così Ma non è più fermo Non deve aver gradito la mia idea di dargli un colpetto Visto che era mezzo morto Scam Detectato Target shield Offline Ma se ho bombardamento ogni 8 secondi da cintura Se prendo l'abilità Entrambi prendono i poteri da runa Allora se tu metti nelle abilità che puoi tirare Bombardamento Con qualsiasi runa quella che vuoi tu Quella che poi viene tirata dalla cintura come effetto Ottiene quella runa lì Quindi se metti che ne so bombardamento di fuoco Sparo a caso Poi il bombardamento della cintura sarà anche di fuoco Perché comunque è come se l'avessi tirata tu Anche se poi non è vero Quindi guadagna comunque l'effetto E questo per tutte le abilità Cioè per tutti gli effetti speciali Che assegnano delle rune O abilità particolari O un'abilità E tu puoi utilizzare quell'abilità lì Sveniva veloce Bombardamento singolo per lasciare una bomba nucleare in mezzo Ti dico che quella cintura lì la utilizzano tanto con il set dell'invocatore Perché gli riduce i danni Quindi comunque è anche molto comoda E poi utilizzavano la runa Quella per I danni da spine Che aumentava con i danni da spine Visto che tanto avevano solo quello Era tutta ciccia extra buona C'è una conda vicino Magari andiamo dalla conda In wind a 3 Con i sidewinder Sicuramente E' andato un po' lungo Ciò ovviamente non toglie che sia un'abilità ottima da usare anche con altri set Ovviamente non volevo dire quello Vai seguindo l'attaccatemi così almeno Lientate vuonte Non devo scannarvi Cassi e massi Cazzuola E' passata l'anaconda Mi ha girato letteralmente Power plant Power plant Grazie Dai Ce li ho anch'io Ciao E no adesso c'è ancora il gliser a piena potenza Mi dispiace La canopi che sta morendo Noo non mi spari Oh che palle ste anaconde Fatevi uccidere Ah ma è no Tu cosa volevi Sei bella scusa Non ho capito Continuiamo a bussare Non ho aperto la porta Tieni Moduli a posto Brava Brava Caccati in mano Drochi Per favore Però muori anche Esplodi Non è che ne abbia tanta voglia Sembra Ma mi dispiace La metti Oh ma è lontanissimo Non c'è tanta scelta Sempre 64 Brava brava Non guardare me Va come ascolta questa Brava brava Tieni un po' di laser Asp deadly Mi dispiace Ma sei deadly Dimmi che sei anche wanted Sei anche wanted E allora mi sa che fai una brutta fine E salviamo il T9 Piccolo dettaglio Che non me ne frega niente Ma vabbè E per la giustizia Chi sa Quando sei fermo Va molto meglio Ci sono il T9 Però là si sparacchiano Python Python Wanted per di più Ehi Vieni qui Qua c'è un clipper Che se ne sta prendendo Magari puntiamo quello prima Già che lo pestano tutti Rubiamo i bot Non saranno tanto contenti Ma pazienza E anche almeno ho bisogno di soldi Quindi Poi veloce C'era il Python Non vedo L'ora che si li sistemi I nostri bot così E non c'è più il cazzo qua Quanto ho già fatto Un milione e sei Poco meno di due milioni Una gunship Una gunship E' già senza scudi Quasi Quindi se ne approfitta E si ruba E' appena guadagnato un po' di taglia Adesso ti fai scannare Da brava Non ho fatto troppi i colpi di multicannon Però A giro Quanto cazzo ne ha tirato Ok forse con questa merita un po' Non mi scappi Inutile che ci provi Ha cacato un po' di roba Tutta roba che tanto non posso neanche prendere Quindi Mi interessa relativamente a niente Anche poi Avessi potuto prenderla Lo sbattimento era Una roba Imane Per questa roba Porco cane Che male Di punta proprio Ma tu sei cretino Ma tu sei cretino Ma renditi conto questo qua Una facciata contro una dropship Non è neanche apparso gli scudi Però Compensato la dropship Si Dove cazzo è il segnale? La Ok Non c'ho gli scudi Qualcosa mi dice che vuoi le botte E le otterrai Con molto piacere Non c'ho gli scudi Non c'ho gli scudi Non c'ho gli scudi I saccazzò Contro le navi piccoline Battisco un pochino Però Menomale Il poco tempo che riesco ad averle davanti Quando cominciano a girare Basta e avanza C'è una asteroide Lì vero Allora lì che l'ho sgamato Adesso ti giri vero Perché mi scanni Non ho niente Bravissimo Guarda come spara in panico Mi stai tornando Fa un po' cacara Devi usare le abilità giuste E devi trovare anche gli oggetti giusti Per farci bene le combo Perché se lo utilizzi con l'attacco spazzata Fa male Solo che devi trovarti l'arma Che ti recupera un po' di collera Di risorsa Mi ricordo Mi ricordo Ho messo la collera In modo che almeno riesci a spammarlo un po' meglio E quindi lì i danni escono Proprio Perché il set è da solo Purtroppo ormai non basta più Devi trovare almeno le cose che fanno sinergia insieme Se da solo purtroppo non basta più Per essere Una cosa buona Eh esattamente Usi l'attacco spazzata Presumo Visto che costa una fucilata C'è un mazzafrusto a due mani Che per ogni nemico colpito D'attacco spazzata Ti recupera Mi pare 5 o 6 di collera Quindi prova a guardare quello Se riesci a trovarlo Mi ricordo se ha una mano o ha due mani Io nel dubbio adesso su quello Ma mi sa che ti tocca trovarlo Sai Altri 2 milioni fatti solo con la fazione grossa Tutti che danno i T9 Ma poverini In carità meglio loro che me Però Può venire solo almeno uno per volta Gira Gira nave ciccioni Impossibile Impossibile Poi Ho visto per un attimo una fede La drop Questa qua Quanto è 65 Vai 3% oggi Pesta Ma subito C'ha Che noiosi Che noiosi Te lo tiro anch'io Così mi pare Aia Mi ha fatto male quel plasma Noo Che noo il distributo no ma dai che palla il distributo che va puttane così hai caccato il cazzo potenza brutta beccati un altro chaff intanto e vaffan chiù avrò la nave mezza pocherellata sicuramente direi che adesso sparo tutti i colpi di multicannon che mi sono rimasti vado a prendere i soldi e riparare e direi che ci può stare una bella pausa guarda che c'è già che spara dai c'è io anch'io c'è inutile ho pensavo di prendermelo in faccia è una drop ship in faccia non è che sia proprio una cosa fantastica beh sparo tutto quello che c'ho ok c'è ancora qualcosa questo aspe è un buon candidato per eeeh ti sarebbe piaciuto vero? no funziona solo con le con i santuari rossi i globi piccolini non contano ti sarebbe piaciuto vero? quel leggendario è una puttanata non trovo altri mezzi termini per per descriverlo è proprio una cagata colossale quindi scartalo pure perché è inutile voilà tanto che arrivo fatto circa poco più di 2 milioni e mezzo anche sto giro calma calma non voglio dire come sono messi male tanti sono messi male sempre più soli wow non scattare così per favore che che dai ma ah la 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 ok il 30 dove la in fondo gira gira non volevo spostare ma così wow vediamo quanti spicci vediamo quanti spicci questa volta molto meno da riparare paletti in bordo l'esperanza è l'ultimo a morire per le missioni di donazione che non ci sono 2 milioni e mezzo a questo giro e vai e 3 per cento di combat rank un giorno o l'altro ce la farò arrivare a un giorno o l'altro bom io allora per oggi pomeriggio direi che può bastare così e e noi ci vediamo poi stasera ok non mancate stasera ciao ciao